oggi giterriamo alle saline de giro in Camargue un nostro amico ci ha consigliato una spiaggia proprio vicino Samari della Mera ma mentre stavamo venendo qua siamo stati attratti da questo paesaggio pazzesco e ci siamo fermati e quindi adesso state anche voi vedendo le saline de giro questo è il chioschetto che vende il sale e noi l'abbiamo comprato ovviamente sono sicura che come noi vi state chiedendo perché quest'acqua ha questo colore rosa beh sono delle alghe che stanno in quest'acqua e che colorano appunto l'acqua di rosa credo che siano le stesse alghe che vengono poi mangiati dagli aironi che stanno in questa zona e che conferiscono appunto il colore rosa e dopo questa mattinata fatta di sale e di rosa ci riavviamo verso girolamo e proseguiamo la nostra escursione per la Camargue da Giderrando è tutto al prossimo video e Grazie a tutti